Nikki Haley ha vinto le primarie repubblicane a Washington DC, segnando il primo trionfo sul rivale Donald Trump nel percorso verso le presidenziali di novembre. L'ex governatrice della South Carolina si è aggiudicata ai 19 delegati dello Stato, con il 62,8% delle preferenze. La vittoria di Haley nella capitale statunitense era attesa da molti analisti, che consideravano la sfida la sua unica chance di battere l'ex presidente USA, che finora ha stravinto ogni incontro elettorale. Attesa ora per il Super Tuesday del 5 marzo, quando voteranno 16 stati.